Appello proposto dal procuratore generale di Perugia Sergio Sottani contro la sentenza di assoluzione emessa dal tribunale di Perugia nei confronti della trans-Sauzano-Pineiro-Reis Duarte accusata dell'omicidio di Samuele De Paoli. Secondo Sottani, nell'appello il procuratore confuta innanzitutto le dichiarazioni e l'imputata nel momento in cui afferma di aver soltanto allontanato e non cercato di strozzare il suo aggressore. In realtà dalle risultanze mediche viene dimostrato che il decesso è avvenuto a seguito di un'azione di strozzamento. Quindi ci sarebbero contraddizioni, secondo la procura generale, che sarebbero emerse durante l'interrogatorio dell'imputata. Il procuratore generale offre peraltro una diversa ricostruzione nel momento del decesso rispetto alla sentenza di primo grado appellata. Secondo quest'ultima, il rapporto sessuale, la colluttazione e la morte del giovane sono avvenuti tutti all'interno dell'abitacolo della vittura, nella parte anteriore sinistra, cioè nella posizione di guida. Il corpo del giovane sarebbe stato trascinato dall'imputata successivamente al decesso fuori dall'auto e gettato nel fosso. Diversamente, secondo la ricostruzione dello stesso procuratore generale, la colluttazione è proseguita all'esterno ed il giovane è morto nel fosso, cosa che sarebbe dimostrata anche dalla posizione del corpo del ragazzo nello stesso fosso, la cui testa è nella direzione dell'autovettura. Secondo l'atto di impugnazione, la vittima voleva far scendere l'imputata dall'autovettura e per questo l'aggredita. Quest'ultima ha apposto resistenza e quando il giovane è cauto nel fosso, l'imputata invece di scappare, ha seguitato ad afferrare il colo del ragazzo e lo ha strozzato, cagionandogli la morte pur non voluta. Per queste considerazioni, il procuratore generale Sottani chiede la riforma della sentenza di primo grado con declaratoria di colpevolezza dell'imputata.